Un'ultima cosa che volevo dire, e io parlo poco però questa qua è importante, a giugno dovrebbe essere il 12 giugno, poi faremo sapere, faremo un Memorial Dante Battioni e cercheremo di formare delle squadre di calcio, il nostro calcio di una volta, anni 70-80, e anche l'ambulanza, l'ambulanza c'è un po' di tutto, per ricordare questo grande personaggio del nostro calcio, vi faremo sapere comunque, d'accordo? Grazie a tutti, arrivederci bene!